Teramo, qual è il senso di questa proposta di legge, il significato, il valore? Mettere a disposizione una somma per i piccoli comuni fino a 5.000 abitanti che possa abbattere le barriere architettoniche nei comuni stessi credo che sia una grande prima risposta di attenzione da parte della regione Abruzzo nei confronti dei piccoli comuni. D'altronde noi dobbiamo avere l'obiettivo di riuscire ad abbattere completamente le diseguaglianze che ci sono tra i grandi centri urbani e i piccoli comuni e garantire i livelli della qualità della vita a tutti i cittadini abruzzesi indipendentemente da dove abitano. Questo è il senso di questa iniziativa che ha prodotto il nostro consigliere regionale Emanuele Marcovecchio. I sindaci dei piccoli comuni sono dei veri e propri presidi di operatività sul nostro territorio regionale e credo che la regione debba fare necessariamente la sua parte. Aggiungo anche che è una norma che punta chiaramente come primo tassello di un disegno più grande cioè quello di riuscire a garantire maggiori servizi ai piccoli comuni proprio per evitare anche il problema dello spopolamento. D'altronde i piccoli comuni si spopolano nel momento in cui non ci sono qualità di vivibilità e di servizi stessi. Quindi la Lega che da sempre ha guardato con grande attenzione al ruolo che ricoprono i sindaci quindi del governo del territorio non poteva che chiaramente imboccare una strada di questo tipo.